Via Francesco Grandolfo, rivoluzione in atto nel reparto offensivo per la Fidelisandria. Il club azzurro, nelle scorse ore, ha ceduto alla Virtus Bassano l'attaccante 24enne Scuola Bari che ritroverà in Veneto Mr. Luca D'Angelo, tecnico che nella scorsa annata ha guidato la formazione andriese. Grandolfo lascia il club federiciano dopo una stagione altalenante in cui è sceso in campo 25 volte, siglando 5 reti. Un anno difficile, specialmente nella seconda parte, caratterizzato anche da una fastidiosa tallonite che lo ha tenuto fuori per alcune gare. Assieme a lui saranno venduti anche Alessandro Devena, classe 92, e Mauro Bollino, classe 95. La punta napoletana si accagerà al Melfi mentre il fantasista siciliano al Taranto, formazioni neoripescate in Lega Pro. In terra lucana, inoltre, dovrebbe approdare anche il terzino destro Nico Paterni, classe 95. Se da un lato partiranno tre pedine nel reparto offensivo, dall'altro arriverà, entro la fine delle contrattazioni, un altro calciatore che completerà il parco attaccanti, assieme a Pietro Cianci, classe 96, sul quale mister Giancarlo Favarin punta molto, e al 21enne Marco Valotti.